Benvenuti all'edizione della notte del telegiornale di Telemolise che apriamo parlando di politica. Lunedì torna in riunione il Consiglio regionale ma per quel che riguarda l'annunciato rimpasto della Giunta non ci saranno novità. Il Presidente Toma vuole prima verificare se le promesse che gli sono state fatte sulla fedeltà alla maggioranza reggeranno la prova dei fatti. In particolare Filomena Calenda che ancora una volta ha rassicurato il Governatore e quindi lunedì a Palazzo Daimmo non ci dovrebbero essere novità sull'esecutivo. Facciamo il punto con Enzo Di Gaetano. Situazione d'empass praticamente immutata alla Regione Molise. Dopo la presa di posizione dei popolari di Isernia che hanno separato i loro destini da quelli di Vincenzo Niro, l'assessore regionale ha avuto parole di apprezzamento per l'atteggiamento assunto dai suoi amici del capoluogo Pentro. In sostanza questi ultimi hanno voluto far capire che una cosa è il loro atteggiamento contro il centro-destra che governa Isernia e un'altra la fedeltà di Vincenzo Niro e dei popolari al centro-destra che governa la Regione. Qualcuno dietro tutte queste manovre tattiche vede tutt'altro. In particolar modo un rafforzamento dell'area che fa capo a Michele Orio nel Consiglio Comunale di Isernia. Comunque sia alla Regione, Tom ha confermato che verificherà in aula se le promesse che gli sono state fatte corrisponderanno alla verità. Sostanzialmente il Governatore non lo dice ma si riferisce a Filomena Calenda che gli ha rinnovato ancora una volta la sua fedeltà alla maggioranza. Il voto della Calenda, come del resto quello di Aida Romagnolo, sono essiziali per la tenuta della maggioranza per questo Donato Toma, al di là delle parole, vuol vedere i fatti e capire se la maggioranza tornerà a compattarsi o andrà incontro a nuovi infortuni in aula. La stabilità politica in Consiglio l'abbiamo, io ritengo che di averla conseguita in questi giorni di colloqui. Tempo al tempo, per ora crisi congelata e grande attenzione alle mosse di entrambe le ex leghiste Romagnolo e Calenda. I loro destini sono indissolubilmente legati anche se gli interessi talvolta sembrano opposti. Le indiscrezioni dicono che entrambe potrebbero rientrare nel partito di Salvini, ma se il perdono dall'alto preveda prima un periodo di purgatorio politico, questo è ancora da verificare. Intanto, proprio la loro situazione così incerta negli sviluppi futuri finisce per favorire Luigi Mazzuto, che nell'incertezza regna sovrano da padrone indiscusso sul piccolo e tempestuoso regno della Lega Molisana. Comunque, per lunedì prossimo in aula non cambierà nulla. E adesso torniamo ad occuparci dell'allarme a inquinamento a Venafro. Si torna a parlare della possibile realizzazione della bretella di Cepagna per alleggerire il traffico cittadino. Un invito in tal senso arriva all'ANAS dal consigliere regionale tedeschi. Lo ha intervistato Sergio Di Vincenzo. Il problema dell'inquinamento record a Venafro ha riportato al centro del dibattito anche il progetto per la realizzazione della bretella di Cepagna, pensata per evitare il passaggio di auto e tir nel centro abitato. L'ANAS, come noto, ha accantonato questa opzione. Ma il consigliere regionale Antonio Tedeschi non ci sta. È vero, dice che i problemi ambientali sono legati in larga parte a impianti impattanti già esistenti, per non parlare di possibili nuove costruzioni. Ma è pur vero che anche il traffico incide. Per questo invita l'ANAS a riprendere in mano il progetto o a dimostrare che l'ipotesi alternativa, e cioè la Mignano-Montelungo-Sesto Campano, sia realmente percorribile. È quello che chiediamo all'ANAS di fare chiarezza, di dire ai cittadini molisani, ma ai cittadini di Venafro e della Valle del Volturno, se vuole finanziare la Mignano-Sesto Campano, di metterci i soldi, di dimostrare che ci siano questi soldi e di finanziare da subito un progetto esecutivo. Altrimenti si finanzi la bretella di Cepagna. Assolutamente perché non è possibile che l'unica città rimasta in Molise che viene attraversata quotidianamente da migliaia e migliaia di camion, quindi violentata quotidianamente da migliaia di camion, rispetto ad altre città come Isernia, come Campobasso, come Boiano, come Termoli, che non hanno più un'arteria che passa nel cuore della città. Sulla questione a breve si pronuncere anche il Consiglio regionale, proprio grazie alla mozione presentata da Tedeschi. A suo avviso è necessario fare pressing a Roma per realizzare un'opera ritenuta strategica, sia sotto il profilo ambientale, sia in termini di sviluppo socio-economico. Sono stato il primo firmatario di una mozione che chiede semplicemente al Governo regionale, al Presidente e all'assessore competente Vincenzo Niro, che devo dire onestamente si è attivato da subito su questa situazione, di chiedere al Ministero competente e all'ANAS di fare chiarezza e di dire una volta e per tutte cosa intende fare per questo territorio. Perché non è concepibile, come dicevo prima, che ci sia una situazione ambientale in quel territorio, non soltanto ovviamente per problemi legati al traffico, ma anche purtroppo problemi relativi anche agli impianti che sono installati su questo territorio, ma di chiedere all'ANAS e al Ministero competente di finanziare un'arteria che decongestioni questo territorio. 6 milioni e mezzo di euro per la viabilità circumlacuale del lago di Guardia Alfiera. E questa è la somma stanziata dalla Regione per un progetto strategico destinato a dare un impulso al settore del turismo. Un'occasione importante è stato detto in conferenza stampa stamattina a Palazzo Vitale, anche alla luce dell'interesse internazionale di questi giorni, verso il Molise. Servizio di Pasquale Di Bello. Un progetto, quello della viabilità destinata a percorrere l'intero perimetro del lago di Guardia Alfiera, che arriva in un momento di forte visibilità nazionale ed internazionale per il Molise e per le sue attrattive turistiche. A riconoscere il fascino di un territorio povero di infrastrutture, ma ricchissimo di storia, natura, arte e prelibatezze, sono stati nell'arco di due giorni il New York Times e il Corriere della Sera, due testate di indiscussa autorevolezza e prestigio. Il turismo quindi come vocazione elettiva dell'intero Molise, creare le infrastrutture per attirare in Regione investimenti orientati in questa direzione è il criterio adottato dalla Giunta per assegnare al progetto di Circo, un la quale la considerevole somma di 3 milioni e mezzo di euro da spendere nell'arco di un paio di anni. A spiegare le ragioni dell'intervento è lo stesso presidente Toma. Io dico sempre che nulla accade per caso. È un percorso che è stato costruito da quando ci siamo insediati. Abbiamo utilizzato anche ciò che avevamo a disposizione, mettendolo al meglio a disposizione del territorio e siamo ancora non soddisfatti perché io vorrei vedere realizzata la strada, la circomulacuale e tutte le altre iniziative che stiamo finanziando. L'accoglienza è stato il primo pensiero che abbiamo avuto una volta che ci siamo insediati, tant'è che è in corso l'ultima fase per l'attribuzione dei finanziamenti sul bando micro ricettività per 20 milioni di euro. E' conto di arrivare nel giro di due o tre mesi alle prime erogazioni perché il Molise diventi più accogliente, meglio accogliente, perché ci siano più bed and breakfast nei nostri borghi, perché ci siano alberghi diffusi, perché ci siano affittacamere e case vacanze. L'idea di una strada che costeggi su ambedue i lati il lago di Guardia Alfiera è stata condivisa dai cinque sindaci i cui territori affacciano sull'invaso. Vincenzo Tozzi, primo cittadino di Guardia Alfiera, Sabrina Lallitto di Casacalenda, Pino Puchetti di Larino, Maria Dilena di Palata e Pasqualino Morinelli di Lupara. Per quei territori e per l'intero Molise l'opera messa in campo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, a sottolinearlo è Vincenzo Tozzi, sindaco di Guardia Alfiera, comune capofila del progetto. E' fondamentale per lo sviluppo, non solo per il territorio nostro e dei comuni limitrofi, ma per tutta la regione Molise. E' una parte di viabilità minore, diciamo così, di un traffico leggero che potrebbe essere utilizzato anche per avversità, diciamo così, come è capitato lo scorso anno, agosto 2018, per quanto riguarda il terremoto, abbiamo un'alternativa al ponte che passa proprio sul lago. I tempi di realizzazione previsti dai sindaci e regione vanno nell'arco di due anni. Per attirare investimenti e privati occorrono le opere sul territorio, hanno detto, prima le infrastrutture quindi, e poi le strutture hanno ribadito tutti. L'ordine regionale dei giornalisti non sarà commissariato dopo le dimissioni di sei consiglieri il 2 gennaio scorso. A stabilirlo è stato il Ministero della Giustizia. L'ordinamento professionale, si legge nel documento inviato dal Ministero, non contempla un'ipotesi di scioglimento automatico dell'ordine territoriale per la mancanza di maggioranza di consiglieri, ma prevede un meccanismo di sostituzione dei membri venuti a mancare con i primi dei non eletti nel rispettivo elenco. Di conseguenza, la Presidente Petta ha provveduto a convocare il Consiglio direttivo con l'immissione dei primi dei non eletti, che sono Antonio Fatica e Mauro Gioielli. Uno degli aspetti che maggiormente preoccupa in relazione al fenomeno della droga sul territorio è il fatto che gli stupefacenti sono alla portata di tutti. Lo ha sottolineato in un'intervista a Telemolise il sostituto procuratore di Campobasso, Giuliano Schioppi. Sentiamo Tonino Danese. Il fenomeno droga spaventa e ciò che più allarma è che gli stupefacenti sono alla portata di tutti lo ha sottolineato il sostituto procuratore di Campobasso, Giuliano Schioppi, analizzando il quadro anche della realtà molisana. La droga è un divenuto, anche in Molise, un bene collettivo, è un bene i cui acquirenti sono sempre più giovani. Anche i costi della droga, che sono notevolmente diminuiti negli ultimi tempi, fanno sì che anche, diciamo, giovani tra i 12 e i 18 anni possono acquistare droga. Senza conoscere la filiera anche di produzione, cosa c'è dietro la droga, come è stata lavorata, come è stata anche adulterata o preparata da altri soggetti e non conoscendone gli effetti. Questo rapporto tra ignoranza nei confronti degli effetti degli stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani, e la possibilità di una fruizione quotidiana, ha spiegato Schioppi, ha ricadute devastanti anche sul territorio. Sul territorio, in maniera capillare, partendo dai grandi centri, mi riferisco a Isernia, Campobasso e Termoli, ma anche Boiano, per finire anche i piccoli centri. Cioè anche piccoli comuni del territorio molisano sono esposti a questa piaga e alla possibilità di un acquisto continuo, quotidiano, di sostanze stupefacenti. Il Palazzo Vernucci di Guglionesi e il Serbatoio di Monte Cilfone costituiscono due delle emergenze del post-terremoto dello scorso anno ad agosto per il Basso Molise. Ci sono importanti novità, ma anche attese per il rientro delle famiglie sgomberate dalle zone a rischio. Intanto i sindaci continuano a sollecitare la nomina di un commissario per la ricostruzione. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Emergenza terremoto dell'agosto 2018 in Basso Molise. In attesa di novità sulla nomina del commissario che gestirà la ricostruzione, le comunità chiedono tempi brevi per gli interventi indispensabili per consentire il rientro di diverse famiglie sgomberate. A Guglionesi si sblocca la situazione che riguarda Palazzo Vernucci. Il comune ha appaltato i lavori finanziati con 300.000 euro per mettere in sicurezza l'edificio inagibile alto 25 metri e considerato a rischio di possibili cedimenti. Tanto che all'indomani del sisma era stata firmata un'ordinanza di sgombero per rischio indotto nel perimetro di crollo che riguarda una decina di famiglie costrette a ricorrere all'autonoma sistemazione. L'obiettivo, afferma il sindaco Mario Bellotti, è quello di mettere prima possibile in sicurezza il palazzo per consentire ai nuclei familiari interessati di rientrare nelle proprie abitazioni. Siamo riusciti a utilizzare i fondi dell'emergenza, ha aggiunto Bellotti, per affrontare una questione che peraltro si trascina da anni. E ora, salvo imprevisti, contiamo che la ditta possa ultimarli nel giro di tre o quattro mesi, dando massima priorità ai lavori. A Monte Cilfone si aspettano gli interventi di messa in sicurezza del serbatoio che si trova nel centro del paese terremotato. Il sindaco Giorgio Manes ha più volte sollecitato i lavori che una volta effettuati consentiranno di arginare la zona rossa e di consentire il rientro di diverse famiglie nelle loro case. A questo disagio si aggiungono anche quelli della rete idrica, interessata da diverse rotture negli ultimi giorni. La sistemazione dell'impianto di accumulo dell'acqua andrebbe a migliorare anche il servizio generale in paese. Intanto i sindaci del Basso Molise continuano a sollecitare la nomina del commissario da parte del governo, superando ogni incertezza e ritardo su questo provvedimento. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo intervento degli amministratori. L'Associazione Armatori Pesca del Molise esprime il suo dissenso alle parole di soddisfazione espresse sull'ultimo decreto del Ministero per regolamentare l'attività di pesca per l'anno appena iniziato. Nel corso dell'Assemblea Soci, dicono dall'Associazione, è stato analizzato il testo e molti sono i punti che suscitano perplessità. Siamo ben consapevoli della necessità di dover attuare delle misure di salvaguardia del mare e della risorsa ittica, dicono, perché è l'unico modo per tutelare il mestiere del pescatore. Ma va concordato un diverso e miglior modo di gestione della risorsa marina in alternativa al fermo tecnico attuale. E adesso cambiamo argomento. È stato presentato a Campobasso il libro Il Molise letterario di Francesco De Piscopo. È stata l'occasione per fare una panoramica sui principali scrittori molisani e sulle loro opere. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. Il Molise letterario di Francesco De Piscopo è il titolo del volume di Maria Gargotta presentato a Campobasso, un momento di confronto sugli scrittori maggiormente rappresentativi della regione. Questo è un libro che è un'allieva, appunto questa professoressa che è stata allieva di Francesco De Piscopo, è una cultrice di De Piscopo e ha scritto questo libro in cui ripercorre tutti gli autori molisani di cui De Piscopo si è occupato. Quindi da Masciotta a Rimanelli, da Iovine si occupa di De Piscopo, ha scritto tanto. Ed è veramente bello perché è uno sguardo sul Molise dal punto di vista letterario. E quindi il vostro contributo è stato proprio quello di organizzare questa iniziativa perché voi siete comunque molto sensibili sui temi che riguardano in particolare la nostra regione. La nostra regione, ci occupiamo anche di problemi a livello internazionale chiaramente, però partiamo proprio dall'importanza dell'identità culturale della nostra regione. Infatti anche il nostro calendario quest'anno riguardava tutto il sito di Pietrabbondante perché il nostro compito non è solo la salvaguardia e la tutela dei beni culturali ma anche la divulgazione e quindi la letteratura e cultura che non è soltanto l'arte. È un volume che è stato scritto da una mia assistente di letteratura italiana, critica letteraria e letteratura comparata, le materie che io ho insegnato per molti anni all'Università di Napoli Federico II, la quale ha voluto dedicarmi un terzo volume perché io mi sono occupato di tanti autori e in questo caso ha voluto ritrovare la mia origine molisana. Io sono nato il primo maggio 1949 a Casa Calenda. Maria Gargotta, la professoressa Gargotta, che è una valente professoressa, ha voluto raccogliere le sue impressioni sui miei studi, i miei studi molisani. Sono tutti autori nostri, che noi sentiamo profondamente vicini alla nostra mente e al nostro cuore. Io credo che la letteratura, e lo dico anche indipendentemente dal libro, nasce sempre da una forma di simpatia come la vita, insomma, incontrarsi, guardarsi negli occhi e poter parlare di quelli che sentiamo, nostri fratelli lontani, insomma, no? Questi autori che in fondo hanno dato l'anima e spesso anche il corpo, ecco, perché la letteratura fermasse dei momenti fondamentali della nostra regione. Rifiuti che quotidianamente vengono accantonati a bordo strada, appena fuori del cimitero di Campobasso, in un'area all'ingresso della parte inferiore, dove si trovano anche rifiuti di altra natura, come materiale da risulta. Segnalare il problema è il coordinatore regionale di segnale civico, Gianluca Maroncelli. Da tempo i residenti si lamentano per i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, per lo più organici, dice Maroncelli, basterebbe mettere gli appositi contenitori della differenziata oppure uno scarrabile per depositare l'immondizia indifferenziata in modo da agevolare la municipalizzata nel suo lavoro. Adesso parliamo di musica e dell'iniziativa che si è svolta al Conservatorio Operosi di Campobasso, dove il compositore Andrea Manzoli ha incontrato gli studenti per illustrare la partitura dell'opera dello stesso Manzoli, che è stata poi eseguita stasera al Teatro Savoia di Campobasso. Vediamo. Faccia a faccia tra il compositore Andrea Manzoli con gli studenti del Conservatorio Operosi di Campobasso, un incontro che rientra in una serie di iniziative organizzate dal Dipartimento di Teorie e Analisi, Composizione e Direzione d'Orchestra, in collaborazione con l'Associazione Gli Amici della Musica Walter De Angelis. Si parlerà di come oggi un compositore affronta la materia compositiva. Oggi ovviamente siamo pieni di sollecitazioni e queste sollecitazioni rientrano involontariamente o volontariamente nella scrittura dell'opera. Ci saranno anche gli studenti questa mattina qui ad assistere? Sì, infatti è un incontro programmato proprio a favore degli studenti. È aperto a tutti, ma è, come dire, una possibilità che si offre agli studenti per poter avvicinarsi alla musica contemporanea. È un incontro che inaugura una serie di incontri che saranno dedicati alla musica moderna e contemporanea. E questa è un'iniziativa del Dipartimento di Teorie e Analisi, Composizione e Direzione e serve per dare uno stimolo all'incontro con le più recenti correnti compositive nell'ambito della musica classica. L'obiettivo è coinvolgere quindi gli studenti di questo conservatorio, ma non solo? Non solo gli studenti, ma dare elementi di riflessione e di conoscenza per il pubblico e per gli appassionati di musica. Ecco, un ragazzo che vuole avvicinarsi a questo tipo di musica? Si tratta semplicemente di avere la curiosità, e questa è una caratteristica dei giovani. La curiosità può trovare nell'incontro con la musica contemporanea tanti elementi e tanti valori importanti. Senta, questo incontro fa parte di un ciclo di altri incontri, di seminari? Sì, un ciclo di incontri, di seminari e di concerti che saranno programmati durante tutto l'anno accademico. La scuola è al centro di un percorso che valorizza i talenti e le potenzialità di ogni persona. All'Arino il premio culturale Bartolomeo Preziosi, giunto alla 41esima edizione che si conferma un punto di riferimento per il territorio e il servizio. 41 edizioni per il premio culturale Bartolomeo Preziosi del Comune di Larino è un appuntamento significativo che si rinnova nel tempo, iniziativa dedicata ai ragazzi della secondaria di primo e secondo grado che si sono distinti nel loro percorso formativo, volontà di un uomo legato alla comunità in cui è nato, tanto da donare 8.000 volumi della sua biblioteca e anche la volontà di premiare ogni anno con un premio in denaro gli studenti più meritevoli, promuovendo il valore sociale della cultura. I 500 anni della morte di Leonardo da Vinci sono stati al centro della cerimonia di premiazione coordinata dal vicesindaco e assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella insieme al dirigente scolastico e presidente del Consiglio Comunale Antonio Vesce. Significativi lavori realizzati rinnovando il messaggio ognuno di noi è un genio, fondamentale riconoscere le potenzialità, i talenti di ognuno e la scuola è il ruolo cardine di ricercarli e promuoverli affinché essi possano esprimersi superando ogni barriera, spazio al teatro con i grandi personaggi che si sono distinti nei vari ambiti culturali, della pittura, della poesia, del canto e delle grandi azioni di cambiamento sociale. Gli studenti dell'ITAC San Pardo hanno poi realizzato un albero e un presepe donati alla grande famiglia dell'Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino. Sono intervenuti anche i ragazzi del progetto Arte Nodiche, ponte culturale tra il Brasile e le favelas e il Molise, un augurio agli studenti da parte di tutte le autorità e dei docenti intervenuti nel perseverare nella ricerca di un patrimonio culturale che rappresenti anche un motivo di libertà, di espressione. Prosegue anche nella giornata di domani, domenica, l'Open Day al convitto Mario Pagano di Campo Basso dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Il Rettore Rossella Gianfagna e tutto il personale della scuola primaria, secondaria di primo grado del Liceo Scientifico Europeo accoglieranno genitori e studenti per illustrare l'offerta formativa dell'istituto che è tra i più longevi e prestigiosi della regione. Questa era l'ultima notizia, termina qui l'edizione della notte del telegiornale di Telemolise. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana. Grazie.